Dal 14 al 27 ottobre al Teatro Rossini di Pesaro torna il Festival Nazionale d'Arte Drammatica che quest'anno festeggia la sua 77esima edizione. Dal 1948 ininterrottamente tutti gli anni Pesaro protagonista del teatro non professionistico italiano con il festival che è riconosciuto come non solo il più antico ma forse anche il più prestigioso d'Italia. Per l'anno di capitale abbiamo voluto realizzare un programma particolarmente ricco dal 14 al 27 tutti i giorni sempre al Teatro Rossini ci sono spettacoli talvolta anche due eventi nello stesso giorno. Oltre agli otto spettacoli in concorso che poi si contenderanno i premi che verranno assegnati nella giornata conclusiva il 27 ottobre la domenica mattina quando si sarà la cerimonia di premiazione anche un focus speciale riservato alla scena teatrale pesarese con vetrina capitale tre compagnie pesaresi, il Teatro delle Ombre, il Teatro della Piccola Ribalta e il Teatro Accademia a dimostrare come questo territorio sia ricco e interessato al teatro non solo come pubblico ma sia anche un territorio di grande produzione teatrale e di grandissimo livello. E poi il GAD Festival Ragazzi, il contenitore specificatamente rivolto ai ragazzi in un festival che fa del pubblico dei giovani e giovanissimi il suo pubblico di riferimento un contenitore ancora più dedicato a loro con tre appuntamenti. Uno un appuntamento molto particolare inaugura il festival il 14 ottobre con tre eventi nella stessa giornata Giorgio Nardone psicologo di fama nazionale che affronterà i temi di una fase complessa della vita delle persone, quella dell'adolescenza e l'affronterà fornendo strumenti di lettura e di supporto non solo rivolti ai protagonisti quindi ai giovani ma anche a chi con i giovani ha a che fare, le famiglie, i formatori, gli insegnanti, quindi un tripolo appuntamento sempre gratuito nella giornata del 14 ottobre dedicato a questo. Sempre GAD Festival Ragazzi, il tradizionale musical, la compagnia dell'Anello di Forlì con un musical tutto dedicato a Shakespeare e alla sua opera Not To Be con un evento speciale la mattina proprio per i giovani e anche un altro appuntamento mattutino il 26 ottobre con uno spettacolo realizzato dalla Lega del Filo d'Oro perché il festival di Pesaro con Università dell'Età Libera partecipa alla celebrazione dei 60 anni di questa istituzione straordinaria, la Lega del Filo d'Oro che porterà a Pesaro uno spettacolo di un'intensità straordinaria che consiglio veramente a tutti di non perdere. Dal 14 ottobre al Teatro Rossini vi aspettiamo 77esima edizione del Festival Nazionale d'Arte Drammatica. Tutte le informazioni le potete trovare sui canali social, sui canali social dell'Associazione Amici della Prosa, sul sito dell'Associazione www.festivalgadpesaro.it e al Teatro Rossini, al botteghino del Teatro Rossini dove potete anche fare gli abbonamenti e acquistare i biglietti per tutti gli eventi in cartellone.